Alcune cose puoi cercarle quanto vuoi ma non puoi trovarle. Questo vale per quel pezzo di lego che ti serve per andare avanti ma si applica benissimo anche alla felicità o all'amore. Alcune cose ci sorprendono mentre stiamo facendo tutt'altro quindi smettiamola di cercarle. Numero due. Ogni giorno dovremo ringraziare per le cose che abbiamo. Dieci dita, una casa, un divano, l'acqua per fare la doccia e per bere. Così forse saremmo meno impegnati a lamentarci anche perché molte volte ci lamentiamo per cose come il volo Ryanair pagato 9 euro che ci sta portando in posti mai visti dai nostri genitori e che ritarda di ben 15 minuti. Tre. Non è importante il numero di mi piace, views, iscritti, commenti, amici, cuoricini. Che senso ha postare una foto del caffè prendendo migliaia di like ma poi non avere neanche una persona con cui berlo quel caffè e magari parlare dei propri problemi. Come ad esempio il volo Ryanair in ritardo.